Buongiorno, buongiorno, oggi è martedì 20 ottobre, la segna stampa in breve di video 33. Su tutti i quotidiani locali troviamo la notizia, la notizia dell'incendio devastante di ieri in zona industriale a Bolzano. Vi proponiamo anche le immagini, incendio che ha distrutto la veranda dell'ex locale Soul Kitchen, notevoli i danni, danni da fumo soprattutto, danni provocati dalle fiamme e subiti dal locale vicino al Soul Kitchen, un bar tuttora in attività, immediato sul posto l'intervento dei vigili del fuoco, nessuno è rimasto ferito. Grazie all'aiuto di Massimo Amoro andiamo a vedere anche le aperture dei quotidiani che troviamo questa mattina in edicola, il Corriere dell'Alto Adige, ticket al pronto soccorso, l'assessore Stoker dice molti gli accessi non urgenti, il centro tutela consumatori interviene e dice bisogna migliorare i servizi sul territorio, l'incendio del Soul Kitchen in primo piano e poi tassa sui cani, i proprietari si ribellano, balzello assurdo, puliamo noi le aree. Inaugurata l'edizione 2015 di Fiera Hotel. La cronaca cura del quotidiano Alto Adige, rogo distrugge il Soul Kitchen, questa è l'apertura, i problemi della rete informatica all'ospedale di Bolzano, ospedale ancora in tilt e poi la bocciatura della mozione della destra tedesca riguardo l'introduzione di un limite sull'entrata dei profughi in Alto Adige. Aumenta la percezione dell'insicurezza, lo dice una rilevazione dell'ASTAT. La cronaca linguatresca cura del quotidiano Dolomiten, i problemi tra Roma e l'Alto Adige riguardo l'autonomia, l'autonomia sappiamo sotto la lente di ingrandimento alcune nostre competenze e poi l'allarme lanciato dagli esperti sanitari in provincia di Bolzano, una donna su quattro è a rischio di dipendenza per quanto riguarda l'abuso di alcol. Siamo alla cronaca in lingua tedesca ancora con il quotidiano Tagest Zeitung, proprio questo è il tema centrale e cioè una donna su quattro, il 27% delle donne in Alto Adige potrebbe cadere nel baratro dell'alcolismo. È tutto, vi ringrazio per aver scelto anche oggi l'informazione di Video33.